Per il ponte dell'Immacolata Veneziani e Mestrini partono uno su tre, davvero pochi rispetto agli anni passati, sono i dati del movimento consumatori adico, preoccupanti, ottenuti da un sondaggio tra i propri associati, circa 300. Un piccolo campione secondo cui a Natale ci sarebbe un calo di partenze dell'8% rispetto al 2013. L'indagine però getta una luce soltanto su chi prenota prima le vacanze e non dice nulla sul last minute, che è un fenomeno in crescita. Lo scorso anno ben il 44% dei veneziani aveva deciso di partire soltanto all'ultimo momento, scegliendo bed and breakfast, agriturismi e appartamenti. In calo comunque i giorni di vacanza. Nel 2012 a Natale la tendenza era di un viaggio di una settimana. Negli ultimi due anni chi parte lo fa per tre giorni e le mete scelte sono vicine a casa Lazio, Veneto, Toscana, Liguria e centri benessere. Insomma vacanze povere, incluso il ponte dell'Immacolata. La fiducia delle famiglie e i minimi storici. Dall'Adico un invito. Per chi può permettersi di partire e prenota sui grandi portali, meglio privilegiare quelli più conosciuti e verificare sempre le condizioni.